Buon appetito! Ciao, sono Piera Andrea Ciao, sono Delia Dal pastificio di Scullurjonis Buon appetito! Cominciamo dalla sfoglia delle nostre cocoe sprenas Schiacciare le patate Mettere acqua nel lievito Inizieremo a lavorare le nostre farine La farina 00 e la farina di grano duro a fiore sardo Aggiungiamo il sale e mischiamo Aggiungiamo lo strutto Si può sostituire lo strutto semplicemente con un po' di olio Aggiungiamo le nostre patate Aggiungiamo il lievito E infine aggiungiamo l'acqua Aggiungiamo Ad ottenimento di un panetto più o meno morbido Lo facciamo lievitare per circa 20-24 ore Poi lo mettiamo in frigorifero circa due giorni per poter maturare Dopodiché lo possiamo utilizzare per fare le cocois Ci occupiamo del ripieno Puliamo l'aglio Togliamo la buccia Togliamo l'anima E lo uniamo al fiscidu Mescolo con una forchetta il fiscidu con l'aglio Per creare una crema Che poi andremo ad unire con le patate Il fiscidu è un formaggio salato caratteristico della nostra zona E se non riuscite a reperire il fiscidu Potete sostituirlo con la più conosciuta fetta grecca Oppure aggiungere un po' di pecorino in più al composto Controlliamo se le patate sono pronte Le pungiamo all'interno E se sono morbide sono cotte Le possiamo scolare Cerchiamo di scolarle bene in modo da togliere il liquido in eccesso Ok, schiacciamo le nostre patate con la forchetta In modo da non lasciare i grumi È molto importante schiacciare alla calda Perché così riescono a frantumarsi bene Il risultato è perfetto anche con la forchetta Volendo, abbreviamo un po' anche i tempi con uno schiacciapatate Procediamo aggiungendo gli ingredienti L'olio Un pizzico di sale La nostra menta Il formaggio pecorino E il fiscidu Che abbiamo precedentemente unito all'aglio Andiamo a mischiare il tutto E finiamo di aggiungere gli altri ingredienti Possiamo finire di amalgamare con la spatola Ok, il nostro ripione è pronto Passiamo a stendere la nostra sfoglia Mettiamo una base di farina Cominciamo a stenderla col mattarello La dividiamo in quattro pezzi Tre pezzi li mettiamo da parte Sempre coperti con la pellicola E un pezzo lo andremo ulteriormente a schiacciare col mattarello Per poterlo poi passare nella sfogliatrice Dobbiamo ottenere uno spessore abbastanza grosso ma non troppo Questo spessore è perfetto Successivamente andremo a formare i nostri dischi Una volta pronte le formine sistemiamo il ripieno Togliamo la pasta in accesso Inforniamo a 180 gradi in forno ventilato per circa 30 minuti Assaggiamo! Ok Trocante Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima